Musica I titoli di oggi, la non autosufficienza, il prezzo del gas, peggiora il clima sociale, diritti in pericolo. Ci ritroviamo dopo la pubblicità. Ben ritrovati con l'informazione del sindacato dei pensionati della CGL di Belluno. La non autosufficienza I sindacati dei pensionati scrivono ai parlamentari veneti. Il tempo stringe, bisogna provare la legge prima che termini la legislatura. In Veneto sono oltre 180.000 gli anziani bisognosi di assistenza costante. Metà degli over 65 soffre di più malattie croniche. Il rischio è concreto e reale, ritrovarsi al termine dell'attuale legislatura senza una legge a sostegno delle persone anziane non autosufficienti. E' partendo da questa preoccupazione che i sindacati dei pensionati di CGL, CISL, UIL e CUPLA del Veneto hanno deciso di scrivere ai parlamentari eletti nella nostra regione, che sostengono la maggioranza di governo, per sollecitare l'analisi e la successiva approvazione in tempi stretti della legge delega sulla non autosufficienza, prevista tra le riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ricordiamo che grazie anche alle nostre battaglie il Veneto si è già dotato di una propria leggelazione su questo delicatissimo tema, sottolineano i segretari regionali e dei sindacati. Ma ora bisogna dare finalmente al Paese quel quadro normativo nazionale che manca, al quale le regioni possano riferirsi nell'organizzazione delle attività sociosanitarie rivolte a queste persone fragili, superando la frammentazione dei servizi e le differenze territoriali. Abbiamo deciso di scrivere ai parlamentari veneti perché si facciano portavoce di questa nostra istanza. L'urgenza che sta alla base dell'appello lanciato dai sindacati trova ragione in un quadro che anche in Veneto risulta per molti versi critico. L'invecchiamento della popolazione, di per sé un fatto ovviamente positivo, produce anche il peggioramento delle condizioni di vita delle persone più anziane. Secondo una indagine ISTAT riferita al periodo pre-pandemia, in Veneto quasi un over 65 su 2 soffre di una o più malattie croniche, anche gravi, una percentuale che si impenna al 60% fra gli ultra 85 anni. Il prezzo del gas Il governo sta monitorando la situazione del gas, sensibilizzando le aziende del settore sulla necessità di aumentare gli stoccaggi, estendendo gli aiutini sulle bollette fino a settembre, ma non riesce ad uscire dal piccolo cabotaggio durante questa crisi epocale. La comunità europea non ha accettato di mettere un tetto al prezzo del gas e su questo se ne parlerà forse in autunno. Il costo è salito del doppio rispetto a tre settimane fa, cioè prima che Gazprom tagliasse le forniture verso la UE. Oggi la Russia, dandoci un 50% in meno di gas, ha avuto un aumento dei ricavi di circa il 50%. Ciò vuol dire che risparmiano gas pur avendo lo stesso introito. L'amministratore delegato dell'ENI si è dichiarato scettico sull'ipotesi di un blocco totale delle forniture. C'è però chi non la pensa come lui. Il direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia ha detto per la seconda volta in pochi giorni che l'Europa dovrebbe prepararsi al blocco totale del gas russo. Questa eventualità significherebbe iniziare a ridurre i consumi energetici fin da ora e prepararsi a razionare gas e elettricità il prossimo inverno. Per ora i timori del governo si concentrano sugli stoccaggi che vanno a rilento e rischiano di non raggiungere l'obiettivo del 90% entro l'autunno. Peggiora il clima sociale Aumenta l'odio nella società italiana e aumenta soprattutto contro le donne e i disabili. È un passaggio delle conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione straordinaria sull'intolleranza, il razzismo, l'antisemitismo e stigazione alla violenza presentata la settimana scorsa in Senato. Attraverso dieci mesi di lavoro, quasi cento audizioni e la raccolta dei dati di tutti gli osservatori, la Commissione, presieduta dalla senatrice Liliana Segre, ha registrato come nel corso della pandemia ci sia stata una recrudescenza dei discorsi d'odio nella rete e sui social con la ripresa di slogan razzisti, antisemiti e di odio, in particolare contro le donne. Serve un intervento normativo per contrastare tali fenomeni estremamente pericolosi in modo da poter rendere efficaci le nuove norme approvate dalla Comunità europea. L'Unione europea ha reso giuridicamente vincolanti i suoi obiettivi climatici a lungo termine, compresa la neutralità climatica entro il 2050. In una risoluzione separata, i membri hanno dichiarato un'emergenza climatica in Europa e la Commissione europea ha presentato la roadmap per un'Europa climaticamente neutra, il Green Deal. L'accordo di Parigi, di cui tanto si parla, mira a limitare il riscaldamento globale al fine di evitare le conseguenze catastrofiche del cambiamento. L'accordo è stato firmato da 194 Paesi e dall'Unione europea. Tutti i Paesi dell'Unione sono firmatari da soli, ma coordinano insieme le loro posizioni e stabiliscono obiettivi comuni di riduzione delle emissioni a livello dell'Unione europea. Per raggiungere l'obiettivo dell'Accordo di Parigi, i Paesi sono tenuti a fissare obiettivi per i loro sforzi per il clima ogni cinque anni, aumentando nel tempo il loro livello di ambizione. L'Unione europea è stata la prima grande economia a presentare il proprio obiettivo di riduzione delle emissioni nell'ambito dell'Accordo di Parigi, promettendo di ridurre queste emissioni del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Nel giugno scorso il Parlamento ha adottato la legge sul clima dell'Unione europea, trasformando l'impegno politico della naturalità climatica entro il 2050 nell'ambito del Green Deal in un obbligo vincolante. Il primo aggiornamento degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni avverrà alla C.O.P. del 2026. Le Olimpiadi a costo zero, come era stato annunciato, puntualmente si stanno rivelando un cattivo affare. Gli organizzatori delle Olimpiadi Milano-Cortina hanno mandato una lettera allarmata al Presidente del Consiglio Mario Draghi sottolineando una grave crisi di governance della Fondazione e di un'altrettanto allarmante paralisi economica. Zaia e Fontana dichiaravano due anni fa che le Olimpiadi sarebbero state giochi dell'autonomia, con niente spesa pubblica e tutto in-house. Ed ora i campioni dell'autonomia di facciata sono di nuovo a chiedere soldi e salvataggio con risorse pubbliche. Le Olimpiadi si sarebbero finanziate con le entrate degli sponsor e della vendita dei biglietti. Erano state previste entrate di 550 milioni di euro di sponsor, quasi un terzo del budget. In una recente intervista al Sole 24 Ore, il Presidente della Fondazione Vincenzo Novari aveva annunciato trattative per 280 milioni, la metà del totale, e per ora di contratti neanche l'ombra. Senza quei soldi i conti non tornano e dovrà essere il pubblico a ripianare. C'è il rischio molto probabile di veder gravare una parte dei costi dell'evento sugli enti pubblici. Abbiamo un problema olimpico. La manifestazione a Roma del 18 giugno. Alla manifestazione della CGL di Roma, alla quale ha partecipato anche la CGL di Belluno, delegate e delegati raccontano di interi settori schiacciati dai bassi salari e dalla precarietà. Nel catino infuocato di Piazza del Popolo, gremito di bandiere rosse, per un giorno sfila il mondo del lavoro e il racconto che arriva dai delegati e dalle delegate della CGL nella manifestazione voluta dal principale sindacato italiano non corrisponde per niente alla narrazione dei palazzi della politica. La realtà è un'altra. Ci sono interi settori, raccontano i lavoratori che sfilano sul palco uno dopo l'altro, già oggi schiacciati da bassi salari e dalla precarietà e la crescita dei costi dell'energia dell'inflazione e l'instabilità provocata dalla guerra non promettono niente di buono. Per questo il segretario della CGL Maurizio Landini chiede a chi è al governo di fare il proprio mestiere, intervenire subito con una legge fiscale equa che metta al centro stipendi e pensioni e tassare gli extra profitti che le aziende energetiche hanno accumulato nell'ultimo anno. Chi oggi guida il paese deve dare risposte immediate senza aspettare che in autunno la situazione precipiti. Al sindacato, ha detto Landini, tocca battersi in ogni luogo di lavoro, qualunque esso sia, perché non è accettabile che due persone che fanno lo stesso lavoro non abbiano gli stessi diritti. Ha poi criticato la scelta del governo di tassare gli extra profitti solo al 25 e non al 100% e messo in guardia l'esecutivo sulla legge delega che dovrebbe ridisegnare il fisco. Se la bozza che circola sui giornali è quella vera non va bene, ha sottolineato Landini, non combatte l'evasione fiscale, non è progressiva e tassa il lavoro più della rendita finanziaria. Un fatto per noi inaccettabile. Nel punto di oggi parliamo di diritti, diritti che non sono ancora acquisiti e diritti che invece vengono tolti. Parliamo della morte di Chloe Bianco. Chloe Bianco ha deciso di togliersi la vita per le continue discriminazioni che stava subendo. Chloe Bianco era un ex insegnante e sarebbe stata proprio lei stessa a dare fuoco al suo camper posteggiato in una piazzola di sosta poco distante da Auronzo. Una decisione tremenda e un esito drammatico. Situazioni di forte drammaticità che si manifestano per gridare il proprio disagio e che possono essere evitate solo se la società garantisce il diritto concreto ad ogni persona di essere quello che si è, di esprimere ed autodeterminare liberamente la propria identità che nessuno deve sentirsi in diritto di giudicare. Finché ciò non avverrà e non ci sarà una legge in grado di tutelare la dignità di ogni essere umano, queste persone saranno in pericolo. Serve una battaglia culturale che deve partire proprio nei luoghi dell'istruzione e della formazione come dice Tiziana Abbasso segretaria della CGL del Veneto e serve una legislazione sui diritti civili ancora troppo carente in Italia e che invece ha compiuto molti passi in avanti in tanti paesi dell'Unione Europea. Occorre rafforzare la rete di protezione che sostenga le persone nei momenti di fragilità. Ma siamo molto lontani da raggiungere questo obiettivo. Il Parlamento non è ancora in grado di approvare una legge per l'inasprimento delle pene contro i crimini e le discriminazioni d'odio che colpiscono omosessuali, disabili, bisessuali, donne. Sono state soprattutto le ragazze e i ragazzi a battersi partendo dalla vicenda di Chloe a ribadire la volontà di battersi per una società aperta, libera, giusta, manifestando sia a livello locale che nazionale. E questo davvero fa ben pensare e sperare. E sul tema dei diritti conquistati ma ora in forza e pericolo non possiamo non pensare all'assistenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che va a togliere il diritto alle donne dell'interruzione della gravidanza. torna il potere sul corpo delle donne e non va bene. Chi sarà maggiormente penalizzata saranno le donne più fragili in difficoltà economica, coloro che non avranno mezzi per sostenere viaggi in altri stati che non avranno altre opportunità. Agordo al centro del mondo è mancato il fondatore di Lusottica e presidente esecutivo di Essilor Lusottica il grande gruppo industriale italo-francese produttore e venditore di lenti e di occhiali con circa 80.000 dipendenti in tutto il mondo. Leonardo Del Vecchio è stato un imprenditore che ha ricoperto un ruolo significativo nell'economia della provincia. Ha tenuto con Agordo e con le altre sedi belonesi della sua azienda un contatto forte. Ha sostenuto il suo territorio pensando anche agli anziani. E questa era l'ultima informazione. Il nostro notiziario riprenderà a settembre. Auguriamo quindi a tutte e a tutti una buona estate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.